nome? Alessandro, Tommaso, Tiziano, Gioele, Samuele, Nicola, Manuel, Cesare allora voi siete anno? 2014 allora prima giornata, adesso sta uscendo il sole però prima la pioggia un po' vi ha spaventato? no c'era tanta pioggia però no non mi ha spaventato si gioca anche sotto la pioggia? si gioca ancora sotto la pioggia la colla più bella e quanto siete carichi per oggi pomeriggio? tantissimo 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 cosa vi aspettate di imparare questa settimana? tantissime cose tante cose molte cose di tecnica di ritornare da Cristiano Ronaldo tutto tutto cioè di più del solito ma voi già giocate a calcio? fate parte di qualche società? più del solito sì io gioco tutto il giorno io gioco nel Cometa Azzurra io tante volte sì ogni giorno io gioco nell'Udino United e gioco più che posso ok giusto giusto allora siamo giunti al momento fatidico del giocatore preferito dell'Udinese Samarzic Samarzic Padelli io non tifo Udinese Samarzic Pereira Pereira Samarzic non tifo Udinese però Padelli anch'io non tifo Udinese però Padelli Samarzic e Paffundi chi mi vuole spiegare perché vi piace così tanto Padelli? cioè ci piace un giocatore che è importante per lo spogliatoio ma non gioca tanto chi vuole rispondere? perché è venuto all'Udin United e ci ha segnato molte cose è bello è bello è bello e allora siete pronti anche per fare un grido se non ti fate Udinese ma e vabbè Tifi Inter capita un bel grido un due tre forza Udinese un due tre un due tre forza Udinese